Padre e figlio, entrambi disoccupati, sono stati sorpresi in viaggio con oltre mezzo milione di euro in contanti nascosti nel bagagliaio. Sono stati così denunciati dalla polizia stradale di Arezzo. I due, un 51enne e un 26enne, entrambi originari di Torra, annunziate in provincia di Napoli, sono stati fermati lo scorso sabato notte sulla 1 nell'area di servizio di Baglialpino da una pattuglia della sottosezione di Arezzo. I poliziotti, convinti che i due stessero combinando qualcosa di losco, li hanno condotti in caserma per approfondire le indagini. Il loro fiuto ha indovinato anche questa volta. Sotto il pianale del portabagagli, i due malviventi avevano infatti occultato otto pacchetti avvolti dal cellofan che contenevano numerose mazzette di denaro per un totale di 550 mila euro. I due hanno tentato di giustificare il possesso di quel patrimonio dicendo di essere diretti in Germania per acquistare un appartamento e che il denaro era frutto della vendita di un ristorante di un generoso regalo fatto dalla madre del capofamiglia. Per lo sfortuna però, grazie alle banche dati, gli agenti sapevano che nessuno dei due aveva un lavoro stabile e che il 51enne non dichiarava alcun reddito da ben 10 anni. La polstrada ha così denunciato padre figlio per riciclaggio, sequestrando l'auto e il denaro. Le indagini intanto proseguono per risalire alla provenienza della somma. Il 51enne infine era una vecchia conoscenza della polstrada di Battifolle. Già nel 2001 infatti era stato beccato mentre trasportava 80 milioni di vecchie lire in contanti di dubbia provenienza a bordo di una Ford di cui aveva pure taroccato l'assicurazione.